la legislatura. Cerchiamo invece di fare polemiche, di avere come obiettivo comune quello di rendere il nostro Paese più efficiente, di rendere più concorrenziale, di far spazi al merito, di fare le riforme che permettono ai giovani di poter avere un ruolo nella società che non sia più una società che cresce perché ci sono raccomandazioni, perché in qualche modo c'è qualcuno che ti protegge. Ecco, questa è la nuova società che noi vogliamo e se noi la facciamo l'Italia ce la rifà di nuovo, ce la fa di nuovo andare forte nel mondo, perché le energie ce le abbiamo, le energie ce le abbiamo purché ci mettiamo assieme e allora sarà anche possibile a mio parere organizzare anche un po' di felicità per noi.